Si tiene per la prima volta a Roma, organizzato dall'IRCCS San Raffaele di Roma, il terzo meeting annuale della rete Neuroscienze e Neuroabilizzazione. La rete è la rete più ampia, tra quelle riconosciute dal Ministero della Salute, ed affronta, a maggio di diversi anni, i principali temi legati alle malattie neurologiche, come malattie neurodegenerative, malattie cerebrovascolari, epilessia e strumenti terapeutici, con particolare riferimento agli strumenti e ai protocolli tipo riabilitativo. Sono momenti sicuramente importanti per far crescere la competenza in questo settore, ma anche per favorire una sanità più vicina ai reali bisogni dei pazienti. Il terzo meeting annuale della rete italiana degli istituti di ricovero e cura al carattere scientifico di Neuroscienze ha visto riuniti qui a Roma circa 600 ricercatori provenienti da tutta Italia. In questo dibattito si è cercato di approfondire gli stati più avanzati della ricerca applicata nelle maggiori patologie neurologiche, dall'ictus all'epilessia, alla schelerosi multipla, al Parkinson, all'Alzheimer, alle malattie neuromuscolari, estendendosi anche alle patologie dell'età evolutiva e le malattie di carattere neurologico, definite malattie neurologiche rare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!